Tutto è pronto, insomma, vado a dire l'inizio di Renzullo, e via, e andiamo a vedere la prima staccatola, i nuovi, o no, 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 di potenza, Alfonso davanti, è riuscito a prendere Medietargo, attenzione del campione italiano, 301, è salito, chissato, 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 finale, nottevole, intanto, andiamo a vedere, andiamo a vedere, in grado, Bonollo, chissato, 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 pregato, 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 la vettura di Agos Lamosek, ma metteva il sorgale mio vecchio, non ce la fa, e adesso è la battaglia, per primi tre, apertissima, Alfonso in grado, chissato, 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 franchini e San Luis in grado, grande, e, non, e, passamare, forza, ragazzi, forza, tutto ciò, assolutamente, grande. in stessa posizione adesso attaccato da Cristian Graziani ma all'esterno stessa volta Cristian Graziani non ci stava avendo questa cosa adesso riesce a tenerla rientra ancora proprio davanti a Fasiccani il sole del minimale quest'ultimo campolo di giornata con un svizzato che si sta avvicinando è più in atto, si schimissimissimo 47, il giro prima, 46 proprio per il giro, 46,1 46,0 i primi due la pista si sta nuovamente quattro gancho alla grande terzo Cazzarini quattro e Fraglini quinto Vincenzo Cazzaroni si pare che via ad una dei traumatici puntati forse la posteriore a sinistra davanti non si muove a dietro viciato alla grande mi ammazza anche per lui in fase di rilasco Alfonso Ingravi è uno scopro non è uno che pesce il piede non è uno che si spaventa va giù va giù pesante con il suo doppio onda 1100 non è passato il donandatore diventa il potenziale si spacca 0,8 si spacca sotto il secondo cazzarini c'è nella terza terza posizione per lui Casalboni ha tirato i remi in barca Ficciato assolutamente no siamo ormai oggi è la metà cara a fare dal termine quando arriveranno sul traguardo Ingravi è ficciato assolutamente impiccati si ritira Casalboni prende direttamente la strada che porta al barco chiuso Ingravi 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 in secondo e uno 3 decimenti ho decisato Era un lavoro di Casalboni da un 20 grammi a ricercato il primo dovrebbe passare ma davanti ai franguini e Casalini chiudono la strada forse ne avrebbe corso fino in più sempre in grado di poter scaricare un po' più si cavane al muro ma non riesce proprio a passare Sumata di Ficciato ma niente di particolare sempre il fatto di rilascio vicino Ficciato quando è fidando per iniziare il penultimo giro Davanti Davanti Ingravi Ingravi E in grado di San Luis Passo in corte Davanti a Franchini Lo frene in alto Spendono sulla colonna San Luis Ingravi 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 di San Luis Da Ingravi Arrani Spendono Ingravi in Scendono hä Grazie a tutti.